eccomi a quanto tempo ciao popolo allora ho lasciato pagina 15 giorni sto un po rallentando con i video me ne rendo conto però sapete dopo averne fatti tanti è difficile trovare sempre un argomento nuovo o comunque uno spunto per poter registrare qualche cosa oggi mi è venuto in mente così stavo per iniziare una delle mie affilate affilatine private così diciamo per tanto per cambiare volevo affilare totalmente ad olio allora mi è venuto in mente accendo la webcam e la registriamo quindi bando alle ciance tanto dal titolo avete già visto tutto quanto oggi faccio vedere le pietre eccole qua oggi una filata tutta d'olio ma senza seguire un una linea di vena cioè non tutta con gli arkansas non tutta con le belghe non tutta oggi facciamo la filatura globale quindi parto con una guascita quindi americana per l'affilatura di base quella grezza dopodiché una candia blu già fine di per sé dressata e messa d'olio guardate naturalmente sarebbe stata così questo è il lato non dressato questo è il lato bello lucidato dressato fino a pietra 6.000 e dopo di che sulla will draws premium fine facciamo la parte finale vedete premium fine grade quindi andiamo poi dalla grecia saltiamo al canada quindi mi faccio un attimo di spazio e come al solito qui non ce n'è più quindi per adesso metto via quello che non serve e cominciamo con la uscita non neanche a mettere ponti ponticelli supporti e supportini si è un po bassa bassotta la pietra ma con un minimo di attenzione ci si riesce ci si riesce allo stesso a il rasoio neanche ve l'ho fatto vedere perché un rasogliaccio giapponese ma con acciaio tedesco made in germany rimediato rimediato in giappone quindi si presuppone sapete uno di quei rasoi da barbiere già ve l'ho fatto vedere un'altra volta se vedete in trasparenza ci sono le iniziali y h questa era una pratica molto diffusa nelle barberie giapponesi dove lavorava più di un barbiere lasciavano lì la serie proprio i rasoi e per evitare cose strane ognuno incideva sopra le proprie iniziali allora un po d'olio sulla uscita vedete poco tre gocce perché le pietre si devono essere impregnate d'olio ma la lama non deve navigare nell'olio non è che deve fare acqua planning sull'olio infatti guardate la pietra è piccolina già tre gocce sono sono eccessive quindi penso che con le prime passate l'eccesso di olio cercherò di portarmelo via con con un po di carta ok ci siamo quindi rasoio come al solito poi microscopio se va tutto come deve andare cerchiamo di cercherò di fare qualche fermo immagine di prendere di catturare qualche immagine al microscopio per poter poi alla fine fare ecco sto levando l'olio in accesso per poter alla fine fare delle comparazioni tra le immagini riportate dal microscopio ora io lo dico subito a filo pochissime volte in olio e sempre per curiosità sempre per variare ora sapete ormai la mia affidatura di di preferenza è quella con le naturali giapponesi che vanno rigidamente ad acqua non c'è una giapponese che migliora con l'utilizzo ad olio però sapete anche per cambiare ogni tanto un po di affidatura d'olio mare non fa quando mi voglio divertire con l'olio devo dire che onestamente mi diverto con le belche la belga sia la classica belga gialla sia qualche vena ibrida con l'olio acquistano tanta velocità e tanta finezza quindi spesso quando mi voglio divertire divertire e cambiare tipo di finitura tipo di sensazione sulla pelle di preferenza vado con vado con le belghe ad olio le arkansas le gradisco parecchio quando mi voglio divertire invece sui coltelli quando mi voglio divertire sui coltelli devo dire onestamente le arkansas hanno loro perché soprattutto l'arkansas morbida sapete che con i coltelli grit in ballo le pietre in ballo sono sempre più grossolane diciamo il coltello finisce la pietra da coltello finisce dove inizia la filatura di base del rasoio si può dire insomma se un rasoio si comincia a bisellare dalla 1000 3000 il coltello affilato su una 1000 è già bene affilato poi sulla 3000 ci si porta solo qualche coltello particolare dedicato allo sfilettamento dedicato alle lavorazioni più sottili altrimenti mille in bassa e avanza e devo dire che in quel campo le arkansas sai io intanto gli archivandoli archivandoli oggi voglio vedere se riesco a fare un video una volta tanto un po' curto intanto sto andando già direttamente al microscopio per il primo per il primo controllo allora vediamo un attimo eccolo qua a me piace dell'olio piace questo che c'è questa specie di simil satinatura che è proprio una satinatura vera e propria non la possiamo chiamare però c'ha quell'effetto traslucido che è molto molto bello allora vedete sto lavorando sulla guascita per cui il bevel è bello uniforme sappiamo che l'estetica non ce ne frega niente perché comunque non è quello che dà la qualità del taglio però se cominciamo a guardare sul sul filo vediamo un filo sì giustamente sfrangiato perché stiamo parlando di una pietra di base da impostazione però stiamo parlando pure di un filo molto molto pulito voglio vedere se posso migliorare un po' la messa a fuoco ma no ci siamo è quella più o meno quindi vedete non vedo bave non vedo l'ingrossatura forse leggermente accennato sotto la mia immagine c'è un filo leggermente ringrossato sapete che faccio aspettate un secondo intanto mi prendo un'immagine poi vediamo se ci serve o se non ci serve perché ritorniamo di nuovo sulle pietre così con la scusa passaggio del web cam all'altra io me la spippacchi un po e voglio dare ancora una leggerissima bottarella qualche passata un pochettino a zone per esempio questa tecnica mutuata dal coltello si vede chi affila tutte e due se ne rende conto quindi con delle pressioni via via sezioni per essere sicuro perché parecchio che non uso questa pietra per essere sicuro di aver coperto bene tutto il filo la pietra come vedete di di materiale ne sta abbradendo tanto anche questo il suo sistema mano mano che alterno i movimenti faccio scorrere le due dita della mano sinistra vedere sono partito dal tallone io questa non è una tecnica che consiglio a tutti quanti bisogna avere scusa scusate l'immodessia ma bisogna avere un ottimo controllo della pressione per fare in modo che è che si a zone però che sia uniforme lungo tutta la lunghezza del filo io penso io penso che la vascita è inutile che la impieghiamo più di tanto di nuovo un controllino non si sa mai al volo al volo vediamo come siamo combinati se non è cambiato di molto sempre filo vedete molto pulito qualche piccolo ringrossino insomma mi sembra che la vascita il suo onesto lavoro l'abbia fatto adesso l'azzardo è perché se no tutti i lasini sono buoni allora voi sapete e se non sapete ve lo ricordo io ve lo dico io di pietre greche di candia ne esistono di vari tipi è una nuova curite fondamentalmente soprattutto ma ci sono candie più grossolane candia da impostare la impostazione del bevel poi via via di crit di finezza sempre maggiore fino ad arrivare proprio alle candia da da finitura la bella blu è già una candia fine quindi diciamo che adesso oltretutto dressata vedere sembra bagnata ma è asciutta la pietra è asciuttissima dressata e messa d'olio aumenta ancora di più la finezza quindi mi aumenta ancora di più il salto che c'è con la pietra precedente quindi forse avrei fatto meglio a fare questo trattamento magari a una candia grigia che di solito le grigie chiare sono un po più grossolane quindi usare una candia grigia come meglio gritte però visto che questa pietra la faccio sempre lavorare molto poco ho detto perché no questa mattina ho fatto un po di manutenzione mi è venuta la voglia ma sì dico facciamo diamo una bella pulita di faccia pure alla candia blu quindi adesso dalla uscita alla candia blu dressata io spero di non dover stare molto molto sulla pietra quindi avete visto le soli due tre gocce d'olio che come al solito sono pure troppe guardate come riflette guardate come riflette sta pietra un bello d'olio ma soprattutto una buona dressata poi ci vuole un video a parte per fare il dressing per parlare di dressing sulle pietre adesso è inutile che che provando dicendo comunque il principio è avete presente i pavimenti in marmo come si arrotano come si rilucidano comunque i macchinari a pietra io ho fatto esattamente la stessa cosa ho dei dischi diamantati fatti apposta apposta per rilucidare i dischi sono molto piccoli per cui per rilucidare non so le soglie delle porte i davanzali in marmo robina così di diversi gritte dal grit 30 al grit 6000 quindi questa mattina mi sono divertito montarlo su un platorello questi dischi su un trapano e mi sono divertito a dressare la pietra non sono partito dal grit 50 sono partito dal 100 e ho fatto tutta la progressione 100 200 400 800 poi che c'era 1500 3000 6000 il risultato è quello che vedete quindi bel dressing della pietra la pietra è rimasta bella lucida è diventata ancora di più già lo era ma adesso è diventata veramente scorrevolissima poi oltretutto ecco con queste due tre gocce di di olio e guardate subito ma vedete vedete quanto mangia l'olio che è carico di limatura ripeto ho fatto il dressing questa mattina questa era una pietra assolutamente pulita sopra non c'era nessun residuo di limatura perché poi quello che non ho detto che queste pietre per rilucidare scusate queste pietre per lucidare le pietre funzionano ad acqua per cui ho prima sgrassato bene bene la candia io ho cercato di rilevargli tutti i residui d'olio dopodiché tutto questo lavoro con il travano col platorello con i dischi diamantati l'ho fatto in acqua spruzzatina spruzzatina d'acqua col solito spruzzino e dieci secondi di lavoro altra spruzzatina dieci secondi sempre per farla lavorare molto abbagnato una volta che ho finito il dressing lo io ho ripassato sopra un velo d'olio quindi ripeto la pietra adesso ha cominciato a lavorare perfettamente pulita tutto quello che state vedendo cioè questo questa è limatura di questo rasoio non sono residui allora dopo tanti cerchietti ho cercato di andare parecchio a cerchietto per velocizzare un po adesso visto che il consumo mi sembra decisamente visibile qualche passata per ordinare eventuali graffi così poi sarà più facile vederli sotto il microscopio io quando faccio questi video vado sempre un po contro i miei interessi no cerco sempre di fare alla fine una decina una ventina di movimenti molto uguali molto monotoni di modo tale per fare una graffiatura che naturalmente non andrei mai a cercare naturalmente cercherai di non farle vedere le graffiature di cercare il bevel il più pulito possibile pulito da segni da marchi di affilatura però visto che mi interessa anche farvi vedere al microscopio come lavora una pietra quindi diciamo che pure andando contro gli interessi di uno di una migliore affilatura preferisco che questi marchi si vedano e quindi adesso andiamo a vedere scusate è molto molto sporco cioè noi c'è molto molto olio vedete tutte quelle palline bianche che sono fuori per cui fatemi dare un asciugata migliore e riproviamo ok vediamo se allora come previsto vedete il salto il salto è grande per cui la pietra sta cominciando a mangiare guardate la differenza che c'è tra la prima metà del bevel dal tagliente verso il centro e poi da centro bevel fino alla fine vedete la differenza sulla parte del filo già parecchi marchi di affilatura sono stati cancellati quindi la pietra sta lavorando sta lavorando bene il filo è rimasto pulito si sta cominciando a stendere però è chiaro che ancora è chiaro che ancora non ci siamo per cui di nuovo ritorniamo 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 qua guardate che è micidiale quante luci da stare a me fa morire e quindi continuo riprendo l'affilatura a cerchi ripeto che è quella che mi garantisce una maggiore velocità trasportazione perché è ovvio no a ogni passaggio in alto in basso il filo percorre molto più strada molto più strada sulla pietra per quello oltretutto col movimento circolare è anche più facile cancellare i marchi precedenti perché con il movimento circolare i marchi nuovi che si creano si vanno a incrociare intrecciare tra di loro ok ma insomma sono cose intuitive non mi sto raccontando proprio niente prendete questo video come una mia affilatura privata e mi state facendo compagnia dai non è che mica tutte le volte dobbiamo salire in cattedra oggi vi racconto della miniera di quello della storia di quest'altra pietra della prefettura di quell'altra ho già una fila turina ad olio tanto per cambiare e venerdì fuori c'è un tempo da lubi è una settimana che qui dalle parti miei non si vede il sole uno che fa a casa gli affili ecco qua vediamo se adesso purtroppo no purtroppo visto il grande salto di finezza tra la pietra precedente questa sono costretto a fare parecchi controlli abbastanza spesso anche perché con l'olio sembra sempre va tutto bello liscio uniforme però non hai la precisa sensazione di dove stai andando ok vedete adesso i marchi si stanno uniformando quindi il marchio d'affilatura poi non fate non mettete paura per questo basta cambiare l'illuminazione per vederli in maniera totalmente diversa vedete quindi sempre detto il microscopio un po è un po come le pietre d'affilatura ognuno conosce il suo quindi devi anche imparare a interpretare quello che vedi quindi però vedo dei marchi d'affilatura molto molto ravvicinati tra di loro dei marchi d'affilatura abbastanza uniformi nei limiti di una pietra naturale e comunque questa non è una pietra da finitura è un intermedia vedo un buon bevel un buon tagliente sicuramente un tagliente molto pulito quindi l'olio ecco l'olio c'ha questa cosa bellissima rispetto all'acqua che l'olio avendo una densità maggiore dell'acqua le varie limature le varie varie bavette riesce a portarsene via quindi le crea e le stacca dal dal tagliente quindi alla fine viene fuori sempre un tagliente più pulito di quanto lascio una pietra d'acqua è così tanto per per capirci guardate il lavoro non è finito però io un fermo immagine lo prendo e guardate adesso adesso al volo al volo facciamo subito una una comparazione tra tra le due pietre che abbiamo utilizzato allora guardate eccole qua stiamo con le immagini al 65 per cento 80 per cento 100 per cento delle immagini abbiamo qui sulla sinistra la uscita e qui sulla destra la candia blu allora a primo impatto aspettate un attimo aspettate un attimo eccovi qua ci so ci so allora a primo impatto le persone sono portate a pensare a ma questa pietra qui è più fine di questa pietra qui negativo negativo allora questa è una novaculite durissima per cui è chiaro che graffia molto di più il bevel segna molto di più il bevel rispetto ad una uscita ma quello che bisogna guardare per bene per valutare la progressione durante l'affilatura non è questo non è il fianco del bevel che non ci dice niente ma è la linea del tagliente quindi se voi vedete questa linea di tagliente dove sta passando il cursore in questo momento e vedete quest'altra accorgerete che questa quella della candia è un è un filo di tagliente molto più steso e molto meno ringrossato anzi per niente per nulla ringrossato guardate invece quest'altro filo adesso fateci caso è molto più ondulato quindi è chiaro che l'abbrasivo era più grossolano più grande di misura e c'è anche in diversi punti ecco guardate qui all'estrema sinistra e all'estrema destra dell'immagine si vede proprio bene ancora il ringrosso sul filo quindi questi due piani di bevel ancora si stavano cercando non si erano ancora trovati c'era un bel ringrossino una curva più che uno spigolo qui invece il tagliente è andato perfettamente a posto quindi mi raccomando ancora una volta mi sono voluto mettere col faccione a tutto schermo proprio per dirlo attenzione a come si giudicano le immagini al microscopio perché questo poi da vita a una serie infinita di polemiche da vita a tutti quelli che dicono il microscopio non serve a niente e perché qui e perché lì perché uno non sa dove guardare è uno non sa come interpretare le immagini se il microscopio non serve a niente perché scusate uno si limita a guardare questo ha ragione che dice che non serve a niente questo non dà nessuna indicazione sulla progressione delle pietre tutto al più da un'indicazione su come sta lavorando la pietra ma come effetto sul bevel sul tagliente non dice nulla questo idem con patate questo chi ha l'occhio smaliziato capisce a si è una pietra più dura a quindi si segna di più il bevel le immagini vanno interpretate correttamente a noi quello che ci interessa guardate lo faccio ancora più grande al costo di sgranare tutto adesso l'immagine ingrandita 150 per cento a me quello che mi interessa è guardare questo la linea del tagliente è questa che mi dà indicazioni non indicazioni su quanto taglia il rasoio come taglia mi dà indicazioni su il salto da una pietra all'altra sulla progressione da una pietra all'altra ci siamo ritorniamo qui e un attimo che intanto chiudo quell'immagine di prima poi è chiaro che l'utilizzo del microscopio di un qualsiasi strumento ottico di una lentina è non elimina quello che è l'ispezione col polpastrello quello che è il controllo sull'unghia per vedere eventuali chip questo valisce proprio bellissimo quindi sentire le micro creste sulla pelle per vedere quanto è aggressivo o quanto è più fine il tagliente in questo caso io sento un filo decisamente ancora aggressivo per cui diciamo che il medio grit quello che doveva fare l'ha fatto inutile insistere fino alla morte e qui questo bel mattonellone gigantesco è la premium fine della with rose quindi qui stiamo ancora parlando di un'altra nova colite in questo caso una nova colite canadese qui è grandicella per cui ho fatto cadere una goccia in più di olio che qui veramente di superficie da coprire ce n'è tanta anzi cerco di di coprire per bene solamente un lato della pietra l'altro lato non è che mi interessi più di tanto tanto il rasoio non arriverà mai dall'altra però va bene faccio le cose più ordinate se no dice che cazzo rola di baffilatore sei ma com'è tratti ok sicuramente c'è un eccesso d'olio già lo sento sotto il polpastrello troppo bagnata sta pietra adesso vediamo adesso vediamo come si comporta la nuova colite canadese io me la rispippacchio lato io sta sempre qui aspettate che vedo un peletto un contro luce dentro casa ducani e il gatto i peli stanno a diventare un incubo ok quindi andiamo adesso con la wild rose la più fine della produzione veramente io mi sono sempre trovato bene con un altro tipo di wild rose che purtroppo mi si è spaccata a metà ma non per grazie a virtù dello spirito santo perché uno è deficiente e se la fa scappare dalle mani ma è caduta per terra e mi si è spaccata esattamente al centro era la matrix quella bianca e nera nera puntinata di bianco e quella veramente una volta adressata per bene raggiungeva finezze finezze stellari infatti non le ho buttato i due monconi perché si sono diventati due sono diventate due piccole pietre comunque guardate anche qua di meno aspettate ma eccola vedete l'animatura le nuova puliti le nuova puliti ad olio mangiano non sembra perché affilare ad olio è sempre molto simpatico sentite la bella scorrevolezza ovviamente con l'olio pochissimo attrito quindi il rasoio scorre bene scorre senza vibrazioni scorre senza rumori è piacevole insomma l'affilatura d'olio è sporca rispetto all'affilatura d'acqua però è sicuramente piacevole e poi ecco c'è il gusto della sorpresa sembra sempre che la pietra talmente dura talmente liscia sembra che non sia succedendo niente poi a un certo punto ecco uno si accorge di questo ma guardate che cioè stiamo parlando della premium fine stiamo parlando di una pietra estremamente fine guardate qua eppure anche essendo estremamente fine è una pietra che mangia e mangia un bel po' vedete che mi sono fermato subito perché pure qui adesso devo cercare di capire anche per regolarmi i suoi movimenti e sulle pressioni devo cercare di capire quanto tempo devo stare su questa pietra qual è la capacità di cancellare i marchi precedenti beh ragazzi aspettate cerco di mettere a fuoco sul filo perché essendo un piano inclinato non ce la faccio a prendere tutta la messa a fuoco poi a questi ingrandimenti la messa a fuoco è veramente limitata a pochi millimetri quadrati a una linea di pochi millimetri ragazzi tanta roba tanta roba tanta roba questa specie di steudo satinatura stranissima che ripeto non è una satinatura è una lucidatura strana è una lucidatura opaca quella che viene fuori in olio anche se i termini fanno a cazzotti lucido e opaco però non è una lucidatura brillante ecco mettiamola così ma il filo è bello 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 io sarei tentato già di prendere ma io facciamo così io un bel fermo immagine lo prendo fatto adesso ritorniamo di nuovo sulla pietra e facciamola lavorare un pochino di più poi al prossimo controllo vediamo se mantenere il fermo immagine per fare le dovute comparazioni se mantenere il fermo immagine di prima intanto voglio vedere perché io di solito affilando io guardo direttamente la pietra ma voglio guardare dal monitor che cosa riuscite a vedere anche voi anzi facciamo una cosa anzi facciamo una cosa aggiriamo facciamo utilizziamo tutto oddio di solito sulle pietre d'affilatura quello che ho fatto io adesso di girare la pietra è per cercare di consumarla uniformemente per cercare di non scavarla scavarla e fare in modo tale che la pietra e non si incavi non si incavi non si incavi non si scavi troppo velocemente questo assolutamente con le nuova puliti non ha senso la nuova pulite è talmente dura che una volta la pada il primo giorno quando è arrivata a casa non lo so forse una nuova pulite utilizzata molto spesso ma molto spesso ma forse nella patina di controllo una volta all'anno è veramente granito duro l'effetto visivo poi soprattutto di questo colore qui è l'effetto quello del marmo cioè sembra sembra che sto affilando su un pezzo del battiscova cosa una piccola soglia guardate eh continua a mangiare come ne diavola adesso lucidata per bene anche a questa guardate quante ah il buio dell'anno l'avete aspetta che sposto la pietra guardate come ho girato il rasoio è caduta tutta l'animatura sul piano della pietra io continuo imperterrito col cerchietto sempre per cercare di velocizzare volevo fare un video molto corto ma mi sono accorto che già sto al trentacinquesimo minuto vabbè che chi mi conosce sa che sto nello standard no ma la cosa che mi sta simpatica adesso sto guardando sto guardando dal monitor l'immagine così come la vedrete voi questo momento non sono in diretta lo sto registrando il video poi do una controllatina per vedere se è venuto bene lo carico su youtube la cosa simpatica è che chi vedrà questo video vede questo movimento infinito blu 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 sto cercando e sembra che non stia succedendo assolutamente un accidenti che gli spacca e invece voi guardate vi rendete conto l'ho levato l'altra volta e lo rilevo anche adesso guardate qua cioè questa è limatura d'acciaio in olio è una macchia d'olio carica di limatura d'acciaio è micidiale micidiale veramente ok già che mi sono fermato a questo punto andiamoci a fare subito controllo hai visto mai già a bella sorpresa è bello eh diciamo che non è perfetto io parlo sempre del tagliente ragazzi sempre del tagliente diciamo che non è perfetto però è un bel bevel dai è veramente un bel bevel allora facciamo l'ultimo passaggio facciamo l'ultimo passaggio gli ultimi due minuti e abbiamo finito quindi ritorno sulla pietra però adesso prima di fare l'ultimo passaggio scarico la pietra la pulisco per cercare di tirare poi il massimo della finezza come si puliscono le pietra d'olio con l'olio per cui adesso olio più abbondante a filo bella passata col ditone per sollevare dalla pietra a tutti i residui di limatura che sono rimasti quindi cerco di portare via di far inglobare nell'olio tutta la polvere di limatura tutto lo smeriglio rimasto ecco non mi veniva il nome lo smeriglio dopo di che prendo la carta assorbente lo scottex e vado a levare tutto l'olio carico di limatura quantomeno il grosso quindi adesso so di avere la pietra vedete quanto è molto più chiara adesso la limatura adesso so di avere la pietra scarica quindi di nuovo come come all'inizio solamente due massimo tre gocce quindi con capo una due e tre è caduta la basta così tre gocce d'olio adesso ricreiamo il velo scorrevole sulla pietra lo stendiamo per non avere zone grumose ci facciamo le ultime passate leggere leggere adesso per cercare di fare il massimo possibile sul filo una bella amalgamatina amalgamatina sulla pietra non è che sto amalgamando chissà quale fanghiglia mi serve per stenderlo lungo tutto il piano di affilatura continuo ma a questo punto mi sa che mi conviene il cerchio largo il famoso 8 su questo lato e su quest'altro e poi adesso in finitura ultima alternare di parecchio i movimenti non insistere sempre con lo stesso movimento aiuta anche nella marchiatura quindi alterno a questo punto passate vedete che anche con la pietra molto larga ormai l'abitudine è sempre quella di incrociare i movimenti ad andare ad uscire perché uno non ce l'ha mai la certezza matematica della planarità della pietra questo movimento qui quindi dritto può essere comodo solo e soltanto in presenza del piano perfetto allora anche con un movimento dritto io sono sicuro che tutto il filo tocca ma visto che questa sicurezza uno non ce l'avrà mai allora il movimento ad uscire il movimento incrociato è quello più utile per fare in modo tale che io sia sicuro che tutto il filo stia toccando sul piano sul piano da filatura sto anche leggermente scomodo perché mi tocca la mano sul tavolo per pigrizia non ho voluto mettere il solito supportino ma non ce l'avessi ce l'ho qua a 10 cm di distanza eh sapete la pigrizia sarà la giornata uggiosa ok quindi la ventina di spazzolicchiate leggere 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 sulla pietra l'abbiamo detto pulita ok e basta inutile a insistere anche perché anche perché abbiamo detto tante volte anche chi mi segue io ho visto altri video ma sentite che ho detto video che ogni pietra lascia la sua impronta il suo tipo di taglio sono pietre sono pietre più dolci pietre più laser ecco le nuova pulite ad olio hanno un taglio molto 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 efficiente sono molto hanno dei tagli molto profondi e a volte talmente profondi che sono anche diventano quasi sgradevoli per cui con la pietra da finitura io non insisto mai più del dovuto perché si potrebbe affilare talmente tanto fare un taglio così profondo che poi si fa l'effetto lametta quello sgradevole quello da spada laser quello senza anima insomma quindi forse è meglio una mezza passata in più con una lama più aggraziata più dolce piuttosto che stare attenti alla pressione stare attenti all'angolo di taglio perché come ti muovi male la pietra di bastone insomma e le nuova pulite sono le nuova pulite ad olio sono conosciute proprio per avere questo tipo di taglio micidiale fammi vedere inclinato così fammi vedere inclinato così fammi vedere inclinato così a 45 eh c'è tanto olio sopra scusate ragazzi perché tutte quelle piccole bollicine goccioline di olio ecco poi sotto la luce forte sotto l'ingrandimento eh esagerato del microscopio infatti qui c'ho un panno sul sul tavolo sto cercando di asciugare un po' il bevel vediamo se se adesso si vede meglio ehi ecco infatti qualche pelucco di stoffa ecco eccola qua vediamo un po' lungo tutto lungo tutto il tagliante bello 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 a me piace vi dico la verità ecco vi cambio l'illuminazione per farvelo vedere un po' un po' meglio evidenziando solamente qualche graffio più profondo che è rimasto allora filo esteso filo esteso ed è un filo cattivo lo dico subito un filo cattivo cattissimo voglio voglio vedere subito una cosa voi scusate vi sto lasciando l'immagine al microscopio apposta apposta eh una parola stavo cercando un capello al volo ma è difficile allora aspettate che si se non cambio l'inquadratura allora aspettate che stendo un attimo io non so se si riuscirà a vedere mi casca addosso cioè stiamo parlando andate i piedi di una ht in uscita dalla pietra c'è allora che allora che il bazzardo è rimasto attaccato eccolo qua purtroppo con l'olio diventa tutto appiccicoso io purtroppo sto guardando la lama e non e non posso vedere il monitor quindi non non so se si sta registrando qualche cosa adesso me ne salta sulla lama sono stupato io non lo so se si sta vedendo se si è visto cerco 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 di avvicinarvelo devo prendere uno perfettamente bianco comunque anzi che sto coso sto toaiolo tutto disegnato comunque li vedete ecco lì eh quindi voglio dire il taglio c'è andiamo a farse la prova di quelle stupide oh ma cazzo lui non si vede non si vede ah io mi posso depilare tutte le sante corte per fare prove quelle credine dai ragazzi dai ragazzi ditemi che si vede perché l'ho praticamente finito i peli guardate qua aspetta eh 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 mi sono fatto mi sono dato una rapata quindi ragazzi il filo c'è poi calcolando che adesso adesso manca la parte più bella per me la parte fondamentale adesso manca la santa coramella adesso adesso ci vuole tanta coramella guardate mi sei spezzato sto nastro scusate eh ci sto litigando un attimo lo volevo togliere anzi lo voglio togliere no voglio col calore un nastro omicidale attaccato così bene guardate eh meno male che c'ho c'ho proprio l'olio a portate le mano per togliere i residui di gomma vabbè dai ragazzi aiutili che sto a fare sto video poi c'è penso io un privato quindi ritorniamo a noi nuova colite canadese candia blu e washita cioè esattamente il contrario bisellatura è parte fondamentale dell'affilatura quindi l'impostazione di base su washita candia blu diciamo come passaggio intermedio nuova colite canadese Wildrose Premium Fine per la 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 finitura finitura finale cioè non mi veniva ma non la volevo dire è brutto finitura finale comunque per rifinire il tagliente il rasoio che adesso continuo a pulirmelo per bene prima di metterlo sulla coramella tutta sta gommina che è rimasta attaccata deve andare via che cavolo caramelle ricordo metterci la gomma adesiva sopra proprio non può essere quindi signori affilatura facile affilatura mediamente facile bastano poche accortezze ecco diciamo con qualche piccola accortezza diventa diventa tutto facile quindi affilatura d'olio ricordatevi pochissimo olio sulle pietre il rasoio non ci deve fare la lama non ci deve fare acqua planning sopra quindi pochissimo olio sulle pietre non lavorare nella mappazza quando l'olio si carica di limatura guardate qui subito andarlo a togliere se volete lavorare in finezza la pietra va pulita diciamo anche un paio di volte durante l'affilatura io ve l'ho fatto vedere una volta sola le pietre d'olio si puliscono con l'olio quindi olio un po' più abbondante si solleva tutto lo smeri la polvere di smeriglio che è rimasta attaccata al piano il piatto di affilatura al piano di affilatura della pietra quindi si mescola per bene si fa inglobare nell'olio abbondante tutto questo tutto questa polvere di smeriglio sapete che con una carta si toglie si rimette qualche goccina di olio fresco a quel punto avete la pietra scarica pulita e quindi di nuovo al massimo dell'efficienza affilatura semplice affilatura tutto sommato veloce mi sono voluto divertire a mettere tre pietre di tre generi diversi ma questa è la classica affilatura che si può fare ripeto tranquillamente con le arkansas le famose tre arkansas che uno compra la soft la hard e la translucent o la hard soft hard e surgical io ho voluto giocare con tre prendendo tre pezzi di mondo diversi spero che vi siate divertiti nulla di particolare non è eccezionale era solamente per stare un pochettino insieme per cui detto questo vi saluto vi ringrazio della pazienza grazie d'avermi seguito tanto non mi seguite fino che su 52 minuti ma chi è rimasto 52 minuti un po' po' però io mi sono divertito quindi contento me i contenti tutti un salutone un ciao popolo a tutti quanti ciao gente dove sta termina registrazione ciao